Dai, dai, dai! Eccoci qua, venera di sera, area YouTube, convento Village, con tre cantanti fantastiche, mai viste in questo locale. Cambiano ogni volta il loro look come le artiste più famose del mondo e tutte le volte non riusciamo a riconoscerle assolutamente. Quindi stasera cercheremo di svelare la loro... Trasformiste? Scambiste? No, solo trasformiste? Anche quella in mezzo? Anche quella in mezzo? Soprattutto quella in mezzo. E io riconoscivi. Non so, magari volete scambiarla, ce la cedevate, come con le figurine, no? E io sto qua. E tu stai qua con noi. E ti appiccichi dappertutto. La cosa? Sì, prova a tappiccicarti alle tue amiche. Una di qua? Anche di qua. Ma questo l'hai fatto malissimo stavolta, eh? Ok, comunque siete tre artiste famose e state passeggiando solo al parco di notte. E non avete paura di nessuno, giusto? Quindi non avete paura che un maniaco potrebbe saltare fuori da un momento all'altro. Ma no, ci sappiamo difendo. Vi spaventiamo noi. E qual è la tua tecnica di spavento? Non può svelarla subito. Non può svelarla subito. Ma solo il maniaco non esce. Eh no, solo il maniaco non esce. Infatti, giustamente, prima aspetti che esca il maniaco. Vuole sapere, cioè. Vuole sapere, vuole sapere, vuole sapere. Però noi vogliamo sapere i vostri nomi. Eh sì, parterei dalla fucsetta, lì così, che stasera avrà un nome speciale. Cioè? Esprimiti. Eh sì, avrai un nome d'arte stasera. Un nome d'arte non ce l'ho pensato. Dacci un attimo. È rimasta bocca aperta. Fantastico. Ecco qua. Abbiamo una diapositiva della ragazza. Ok. La chiameremo, la chiameremo Bocca Allegra. Ok? Così, nome... Un nome... Attenzione. Bocca Allegra. Bocca Allegra suona bene. Dove stai andando? Torna qui. Si sta buttando in mare. Torna, torna nel... Torna tra noi. Eccola, eccola, eccola. Ecco, abbiamo l'intossicata anche. Abbiamo Bocca Allegra, l'intossicata. Ecco qua. C'è di tu ormai perché... E te... A te io ti chiamo l'assessore perché da sempre ti chiamo... No! E lei è l'assessore. Non sono chiesto. Perché c'è dietro una storia molto lunga. E lei è l'assessore. Ok, ok ragazzo. Però è ora di partire perché fuori il pubblico sta acclamando, vuole sentirvi cantare. Non ce la fa più. Ci sono quelle due ragazze lì che sono pure arrappatissime. E quindi anche questi non scherzano. Ok, ok. Partiamo ragazze senza fretta o c'è fretta secondo voi? Scusa, solo dentro perché se lo metti fuori ti spacco il culo. Va bene ragazzo, come dite voi. Ok. Questa è la sua testa. Ha giudicato. Ecco la finezza della... Intossicata. Va bene. Va bene. Eccole qua. Allora, l'assessore l'intossicata e bocca allegra in... Ma è detta primavera. E vai allora. Fateci sognare ragazze. Scusa, vai cominciare a dare il lato. Scusa, vai cominciare a dare il lato. Scusa, vai cominciare a dare il lato. A dire il lato. Scusa, vai cominciare a dare il lato. Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai! Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai con l'applauso! Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai! Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai! Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai! Gli applausi da fuori si sprecano per le tre ragazze, vai! Gli applausi da fuori!